Condivideranno il palco nella splendida cornice di Piazza Santo Stefano di Caiazzo, sabato 22 giugno alle ore 21 in concerto Newt e Guappe Cartò. Un evento inserito nella rassegna Volturno Vagabondo, ideata dal comune di Caiazzo, supportata da varie associazioni del posto e finanziata dalla regione Campania nell'ambito del POC Campania 2014-2020. Due concerti in una sera che promettono coinvolgimento, musica, ritmo e talento. Newt, nato a Napoli col nome di Claudio Domestico dal 2003, è voce chitarra e autore del progetto Newt. Ha ottenuto una serie di conoscimenti, ottimi consensi da parte di critica e pubblico. Negli anni Newt ha suonato con e tra gli altri After Hours, Kaki King, Marta Sui Tubi, Piers Faccini e Cristina Donà. Te voglio, te penso, te chiamo, te vega, te sento, te sonno. I Guappi Cartò nascono a Perugia come musicisti di strada nel 2004. Ad oggi, dopo 12 anni dalla nascita, hanno realizzato quattro dischi e si sono subiti in più di 1500 concerti in tutta Europa. Il programma di Volturno Vagabondo continua e si conclude lunedì 24 giugno alle ore 18 presso Palazzo Mazziotti con il convegno Dialoghi sul territorio, le testimonianze storiche e produttive per la costruzione del paesaggio contemporaneo.